2.100.000 euro di evasione alle imposte sui redditi, circa 1.300.000 euro di IVA non pagata, evaso anche l'IRAP per una cifra che si aggira intorno a 2.100.000 euro e dimissione di fatture per operazioni inesistenti pari a circa 25.000 euro. È il bilancio dell'attività di indagine svolta dai finanzieri della tenenza di Todi nei confronti di un'impresa operante nel settore del commercio di autoveicoli a livello nazionale. L'operazione ha fatto emergere il particolare meccanismo di evasione attuato dall'azienda mediante l'occultamento sistematico di ingente materia imponibile sottratta a tassazione e con emissione di fatture che di fatto documentavano prestazioni di servizio in realtà mai effettuate. L'analisi delle operazioni bancarie rilevate sui conti correnti riferibili all'amministratore e ai soci della medesima impresa ha consentito di ricostruire l'effettivo volume d'affari della società. Al termine dell'attività di indagine l'amministratore è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente. Grazie a tutti.